Oggi siamo venuti al Wink Parking, che è il negozio di Yoko Seito. Speriamo di trovarla perché non mi sono sicura. È forse il posto più famoso per le amanti del quilting giapponese che sicuramente so che fanno una tappa qua al negozio. E quindi vediamo se la incontriamo. Il negozio si trova al secondo piano ed è questo che vediamo. Speriamo che ci fanno girare molti video. Grazie a tutti.